Ex amministrator, sono amministrator tuttora in carica, ex sindaco sicuramente, perché sono consigliere da 22 anni, quindi non mi sento ancora un ex, abbiamo deliberato unanimamente noi abbiamo invitato tutti gli ex amministratori, non tutti i sindaci ci sono purtroppo sì, ti riferiva agli ex sindaci evidentemente, va bene, non era assolutamente una polemica giusto per evidenziare il ruolo istituzionale che tuttora ripesto. Io devo salutare con deferenza il sottosegretario che è qui presente, che ormai ha sempre fatto anche in passato, un saluto particolare al dottor Barone e alla sua famiglia, al consigliere provinciale e ovviamente al sindaco che mi dà la possibilità di intervenire, che è sempre molto disponibile e gentile con tutti. Devo rivolgere un plauso a lui e all'amministrazione per aver voluto dare questo tributo e questo ingomio ad una personalità che è sicuramente assegnato e lascerà un ricordo indelebile per questa comunità. Io voglio sottolineare soltanto due o tre aspetti del dottor Barone, il ruolo di medico di famiglia che ha avuto con tutti i pazienti di questa comunità montana, comunità locale, scusate, evidentemente penso ancora alle comunità montane, oltre che ai comuni. Devo dire che un bravo medico è il medico che ascolta tutti, è il medico che possiede cultura e umanità e non se ne vanta. Il bravo medico è colui il quale considera il paziente una persona umana e non un oggetto.